Se fossimo poco meno che rispettosi nei confronti del capo dello Stato potremmo ironizzare sulla trasferta brussellese di Sergio Mattarella, sulle strette di mano e le foto opportunity dove accenna un sorriso o sulle poche parole pronunciate a margine dell'ultimo incontro ufficiale con i giornalisti. Ma mancheremo probabilmente di notare ciò che conta, ovvero che a detta dello stesso Presidente, che è sì persona cortese ma non incline a discorsi vacui, i colloqui avuti prima con il Presidente del Parlamento, Martin Schulz, poi con il Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk e infine con il Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, sono stati interessanti e profiqui. Insomma, grande attenzioni per l'Italia, il suo ruolo e le sue politiche, dice il Presidente, che ci tiene a far sapere che a tutti ha parlato dell'emergenza naufraghe e profughi che arrivano sulle nostre coste, della situazione in Libia e in Ucraina e ovviamente della situazione economica italiana, ricevendo apprezzamenti e la rassicurazione che tutti questi temi saranno al centro dell'attenzione. E anche il giusto riconoscimento per la parte fatta dagli italiani. A dirlo in particolare è stato il Presidente del Parlamento Europeo, il tedesco Schulz, che ha definito la nostra una grande democrazia umanitaria, sottolineando come non immaginasse quanto imponente sia stata un'operazione come Mare Nostum, che ha comportato un impegno senza precedenti. Poi certo, c'è spazio anche per discutere di dossier come quello sui due Marò, ne ha parlato con Federica Mogherini, in veste di rappresentante europea per la politica estera, e per un incontro con i parlamentari italiani a Bruxelles, ai quali Mattarella si è rivolto con parole di incoraggiamento, visto che, ha detto, è qui che si realizzano la gran parte delle politiche che garantiranno un futuro ai nostri giovani. Non c'era, fra i 73 europarlamentari pronti ad accoglierlo, Matteo Salvini, rimasto a Milano dopo aver già snobbato l'incontro al Quirinale due settimane fa, e ovviamente chi ha potuto l'ha fatto notare.